Al 14esimo comunque il Torino era andato in vantaggio, azione tutta verticale, caso, Zaccarelli comi e stupendo gol del giovane attaccante. Attacca con impegno il Genoa in avvio di ripresa e pareggia al sesto minuto, da Onofri a Policano a Bosetti il cui tiro è respinto, riprende l'elesto Briaschi è in fila, 1-1. Al 24esimo arriva la rete decisiva, Calle